Ben trovati, era un po' che non ci vedevamo, qualcuno si è preoccupato, non preoccupatevi, sto benissimo, semplicemente ho avuto molto molto lavoro. Oggi vi presento un tutorial sullo VV Unwrap, che è questa tecnica che ci permette di mappare come vogliamo le superfici e particolarmente oggi lo applichiamo all'architettura. Come vedete ho costruito banalmente, mi sono messo nelle peggiori condizioni costruendo una sorta di assonometria sezionata a una certa altezza, dove ci sono delle bugature, che sono fatte tra l'altro con dei boleani, quindi veramente la peggiore ipotesi che potesse capitare. E vogliamo mappare la parte interna di questa stanza. Cominciamo selezionando le parti che vogliamo mappare. Stacco quello che sembra essere uno stipide, perché probabilmente non sarà mappato, come vedete sono tante superfici, anche di dimensioni molto diverse. Le seleziono tutte, naturalmente quelle lì che hanno il boleano all'interno non saranno proprio perfette, ma insomma, molto probabilmente è quello che vi capiterà. Attenzione a non scalare le facce, a non scalare la vostra geometria, altrimenti questo sistema non funziona, in quanto vedrete tutto schiacciato. Adesso abbiamo selezionato tutti quanti i poligoni, per non farlo scappare potete anche premere la barra che blocca la selezione. Fate un detatch. Lo so che sembra assurdo dover staccare una sola parete da una poli, ma vi assicuro il modo migliore. Chiamiamolo parete, cerchiamo di essere sempre precisi, come la nostra consuetudine, e andiamo a selezionare la parete. Eccolo qua. Andiamo a prendere l'UVVMEP. L'HUMBRE, pardon. Eccolo qua. Naturalmente scegliamo PLANE, cioè la proiezione piana della nostra geometria, e andiamo a cliccare su Open UVV Editor. Vedremo delle cose un po' strane, non ci dobbiamo preoccupare. La cosa importante è che poi clicchiamo su Mapping, su Flat Mapping. Mettiamo tutto a zero. Spacing non è importante, ma magari abbiamo un file di AutoCAD, quindi potrebbero venire separati. Clicchiamo OK. Ed ecco qui le nostre bellissime superfici. A scala reale. Attenzione, se avete scalato la vostra architettura, verranno scalate anche queste. Quindi fate particolarmente attenzione. Sono disposte in maniera abbastanza particolare, ma non ci importa. L'importante è che riempiano la nostra geometria. Andiamo su Tools, e renderizziamo il template. Lasciamo i valori default, 1024 è un'ottima risoluzione. E quindi andiamo a salvare. Se tornando indietro con lo zoom vedete che mancano delle parti, non preoccupatevi, è normale perché le linee sono molto sottili. Allora, andiamo a salvare. La chiamiamo parete. Ovviamente scrivo anche template, normalmente, per non confondermi. Andiamo a scegliere come formato di estensione di salvataggio, PNG. Perfetto, save. C'è un alpha channel già inserito, che può essere abbastanza importante. Clicchiamo su OK. Bene. Andiamo a trovare Photoshop. Prendiamo il file. Apriamo il nostro template, che dovrei aver messo sul desktop, spero. Non deve fare brutta figura. Eccolo qui. Ce n'era una precedente sotto, l'aggiorno, ma è come caricarlo da zero. Perfetto. Naturalmente le linee non si vedono. Se lo richiede il lavoro che devo fare, posso anche aggiungere un livello, colorarlo per esempio tutto quanto nero, e metterlo sotto per vedere esattamente cosa sto facendo. Poi l'importante è che non venga rimesso poi come immagine. Perché adesso, se rimporteremo queste immagini, vedremo tutto nero, praticamente. Notate che ci sono anche le diagonali del boleano. Prendiamo questo pattern, che ho scaricato da internet, semplicissimo, e lo andiamo a piazzare all'interno della nostra geometria. Per farlo funzionare bene, chiaramente questo pattern tra sopra e sotto deve essere scavato perfettamente. E quindi, ecco qui. Andiamo ad inserirlo all'interno della nostra geometria. Mi scuso, non è perfettamente dritto. Ecco, ora è già un pochino meglio. Perfetto. Quindi cominciamo... Possiamo spostare sempre le frecce, cercare di metterlo a posto. Sono pareti non contigue. Per le pareti contigue faremo un altro tutorial a breve. Quindi in questo caso, stiamo andando molto velocemente, mappiamo tutte quante le pareti, come ci servono. Con lo stesso pattern. È logico che avremo dei punti in cui questo non coincide, ma non è questo lo scopo di questo tutorial. Assieme ai di altri. Perfetto. Sotto ci sono le nostre geometrie che stanno per ricevere il pattern. Come vedete, alcune sono orizzontali e alcune sono verticali. Fate bene attenzione a questa cosa, perché poi si riproporrà dopo. Li salviamo. Salva con nome. Lo chiamiamo. Salviamo sempre in PNG. Quasi tutte le immagini dovrebbero essere PNG. Lo chiamiamo parete call. Io di solito metto colorato dopo, per evitare di confondermi. Nessun tender lacciato. Ok. E andiamo all'interno di Max. Nuovamente. Chiudiamo la finestra del render. Questo possiamo tenerlo attivo. L'uvv, perché probabilmente ci servirà. E andiamo a aprire il pannello materiali premendo M. Qui abbiamo materiale standard, che era quello che era di sopra della mia architettura. E poi ne creo uno nuovo. A cui vado a mettere come bitmap, da mappa, il template appena creato. Mi raccomando, chi è che stenta con queste operazioni facesse il tutorial precedente, ma è inutile che ve lo dico questo. Bene. Andiamo. A mapparlo. Ed ecco il risultato. Vedete? È chiaro che alcuni elementi dipendono da come abbiamo in Photoshop messo la mappa. Quindi per esempio ci troviamo con delle pareti che sono verticali e orizzontali. Correggerle non è impossibile. Dipende da come abbiamo strutturato l'uvv. L'uvv, come vi dicevo, è un mestiere. Però abbiamo un minimo di possibilità di muoverci. Nel senso che questa parete che per esempio è semplicemente, come vedete, nel verso sbagliato, basta semplicemente girarla. E scuso qua perché se la muoviamo, logicamente la muoviamo al di sopra della mappa. E possiamo anche togliere gli estremi, la possiamo scalare. Allo stesso modo, attenzione col click perché deve essere singolo, se avete un mouse un po' intollerante questa cosa qui ve la fa sballare. Se tenete, potete usare lo snap angolare naturalmente, io ho dimenticato di azionarlo, per cui premo ESC. Torno indietro. Potete sempre farlo, come tutte le cose. Siamo in un ambiente in cui ci permette di fare tutto con gli stessi comandi. Ecco qui, con lo snap angolare lo giriamo e come vedete torna perfettamente verticale. Dov'è che la mappa si sovrappone? Semplicemente, è logico che si poteva fare uno studio precedente. Vedete, è abbastanza sensibile il comando qua. Contro del Z È abbastanza sensibile il comando. Clicchiamo a vuoto, ripeschiamolo da qua e prendiamo il comando. Possiamo muoverla come ci serve, per far sparire magari il difetto. Volendo potremmo anche mettere tutte una sopra l'altro, se ci piace particolarmente quel pattern. Questo per esempio è venuto inclinato, anche questo. Clicchiamo a vuoto, clicchiamo ruota, clicchiamo la superficie e giriamola. In questo caso nemmeno ci piace, perché è spezzettata. Andiamo a sovrapporre magari a un'altra, finché non troviamo la parte che ci serve. È come se navigassimo, adesso abbiamo veramente tutta la libertà di questo mondo, se dobbiamo mettere una scritta o una cosa simile. Insomma, è una cosa abbastanza interessante. Vedete, questo è particolarmente bene. Questa linea che vedete non preoccupate, perché sparirà col boleano, come potete vedere. Basterà poi renderizzare. Questa cosa qui è la traccia che io ho lasciato al di sopra. Se vogliamo toglierla, non dobbiamo fare semplicemente questa operazione qui. Andiamo in Photoshop. Il livello che abbiamo messo all'interno lo spegniamo e risalviamo esattamente il file. Basterà usare la stessa estensione. In questo caso è un PNG. Ho fatto apposta questa cosa in modo che, se risalviamo sul paese di colorata, vedrete che il file può essere semplicemente sovrascritto. E 3D Max l'ha aggiornato direttamente. Vedete? È sparita sia la linea del boleano che quella del... Che è la traccia del render. Un'ultima volta per farvi vedere nuovamente il comando. Lì c'è un'interruzione che non vorrei ci fosse. Me la porto dove serve a me. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Per ogni domanda non dovete fare altro che contattarmi, come sempre. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Spero di essere stato abbastanza chiaro.